Abbiamo iniziato sicuramente con uno spirito giusto e la grinta giusta per affrontare la squadra, purtroppo nei set successivi non siamo riuscite ad imprimere il nostro gioco incisivo come abbiamo sempre dimostrato, abbiamo strappato un altro set al quinto, purtroppo ci sono stati degli errorini che non ci hanno permesso di portarci a casa anche questa soddisfazione, però sono sicura che già dalla prossima partita rimedieremo.